Fibonacci Day, anche il liceo parzanese di Ariano, ha celebrato il padre della matematica moderna, in particolare dell'algebra. Il 23 novembre è stato infatti scelto come giorno per la promozione e la diffusione della cultura matematica a livello nazionale e per ricordare uno dei più grandi matematici di tutti i tempi che ha creato la sequenza per cui ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti. Ad Ariano, presso l'auditorium e la sala Siani del Palazzo degli Uffici, gli studenti hanno potuto ascoltare l'intervista ad Alessio Figalli, medaglia Fields per la matematica. Poi gli alunni del parzanese hanno spiegato la sequenza di Fibonacci. Ancora oggi la sequenza di Leonardo Pisano è applicata nello sviluppo di codici a barre e ha contribuito agli studi sulla popolazione e nella finanza. A Fibonacci si deve anche il numero aureo. Il rapporto tra un numero della sequenza e quello precedente si avvicina sempre di più a 1,618, una cifra irrazionale presente in molte realtà naturali. L'esempio più celebre è la conchiglia del mollusco Nautilus che riprende alla perfezione la forma della sezione aurea. La data del 23 novembre è stata scelta usando i primi quattro termini della celebre successione, detta anche aurea, 1123 nel sistema di datazione anglosassone. Entusiasti gli studenti che hanno mostrato grande interesse per la figura del matematico pisano.